E' un'altra cosa. Una nuova splendida giornata! Buongiorno! E' un bottino moltiuso, signora Mortillaro, che esegue 14 funzioni integrate in un solo innovativo elettrodomestico dal design prestigioso. Sì, ho capito, ma scusi, ma chi gli era detto è il numero mio? 20 nominativi. Freschi, freschi, sicuri, sicuri, tutti per te. Io la capisco benissimo, però se il nostro tecnico... Ho capito, signora, però lei non mi... E allora vaffanculo te, porca troia, vaffanculo, che cazzo! Oh! Telefonista anche lei? Turno pomeridiano. Sindacato precari, Giorgio Conforti, molto piacere. Papà, ma che stia fa? Ma non mi rende gusto che è lui che ci fa le pericola tutti! Ma perché non ti fai un ritocchino qui, leggero, leggero? Ci penso. Ma lei quant'anni c'ha? 24, signora, perché? Ah, allora, forse ha conosciuto mio nipote Giulia. Ah, Giulia, sì. E che fa di bello adesso? Purtroppo non c'è più. Marta, del turno 9.13! Non è tu come ci sei finita lì dentro? Io cercavo lavoro e ho trovato questo. È strana, è laureata. No! Sei l'aria abbastanza, tesoro. Ciao, Marta! Ci do quanto vuoi? No! 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 No!